Benvenuti in questo nuovo video, oggi parliamo del charleston della X-Dram DD670. In molti mi avete chiesto come si monta questo charleston, visto che sul manuale di istruzioni non è specificato. Bene, alla fine di questo video vi farò vedere come io ho montato questo charleston. Vorrei però dedicare tutto il video al charleston della batteria X-Dram DD670 e quindi farvi vedere come risponde. Vi farò un'inquadratura molto ravvicinata sul charleston dove potrete notare i colpi che io darò con la bacchetta e ascoltare solo i colpi che suoneranno effettivamente. Per fare un ulteriore esperimento, per farvi capire che il problema principale non è la centralina, ovviamente all'interno della centralina abbiamo dei suoni che non sono un granché, la risposta non è il massimo e cosa intendo dire con questo? Semplicemente che pur suonando piano, iniziando a suonare piano, i suoni che la centralina ci tira fuori sono già suoni abbastanza forti, potremmo dire così. Questa racchiusa in una parola più semplice si chiama dinamica e in quel caso suoni campionati che non sono di grande qualità. Ovviamente questo problema sparisce dal momento che andiamo a collegare la nostra batteria ad un VST, appunto come può essere Superior Drummer 3. Sparisce il problema della dinamica, della risposta al tocco per quanto riguarda il suono, quindi la qualità di un suono campionato, ma non sparisce la risposta al tocco del Charleston, ovviamente, perché il problema principale è appunto il trigger del Charleston, nel senso che i trigger di questa batteria non sono male. Ma cosa accade? Quando noi abbiamo un trigger inserito sotto, ad esempio, una pelle Mesh, avremo ovviamente una risposta ben diversa da un trigger che fa funzionare un pad completamente in gomma. Infatti sulle batterie acustiche, che possono essere appunto triggerate, molto spesso troviamo questo trigger a contatto stretto con la pelle della batteria. Questo cosa vuol dire? Che quel trigger, se di buona qualità ovviamente, cercherà di catturare tutte le vibrazioni appunto di quella pelle. Ecco la risposta a tutte le volte che mi viene chiesto è meglio questa batteria o è meglio l'altra. Ci sono dei trigger, quindi una qualità dei trigger, poi ovviamente c'è la centralina, come la centralina riceve questi suoni e poi come li modifica da segnale MIDI a segnale audio, perché è importante sapere questo. Il trigger ci serve a trasformare quella vibrazione, perché non parliamo tanto di suono, comunque quel colpo, possiamo chiamarlo quella piccola vibrazione, che viene convertita in qualche modo in una nota MIDI, la centralina poi farà il lavoro di trasformare questa nota MIDI in una nota audio, andando ad assegnarla ovviamente ad un riproduttore di suoni. Ecco perché possiamo fare la stessa cosa tramite PC con un VST di qualità superiore. Ci tenevo a precisare questo, magari per farvi capire qualcosina in più. Partiamo subito e andiamo a vedere da vicino come risponde il charleston. Farò questi due test, quindi il primo lo vedrete sul charleston direttamente, poi mi sposterò su un tom della batteria e avrete modo di vedere che la risposta cambia completamente. Al termine di questo video vi farò vedere appunto come si monta il charleston della X-Dram di D670, o meglio, come io l'ho montato. Grazie a tutti. 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 In questo momento. Grazie a tutti. 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 premerete. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.